e allora ciao a tutti i miei esperienze in questo nuovissimo video su Hero Games oggi siamo qui nella app Adrenaline degli MCSG siamo con Edgames e Zalex però io ho sbagliato e Ale non Zalex e Zalex se voglio dire Zalex anzi no 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 lui non si chiama Zalex lui si chiama Alex Tutorial01 oh che cazzo questo città oddio fu il ferro oddio no 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 è che mi stai seguendo da dentro e ora sono tipo mortissimo perché ora non so dove cazzo andare dimmi che se toghi allo spawned ci sono io please dimmi che c'è una cesta qua c'è una cesta qua arma non c'è l'arma cazzo 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 devo trovare sottovento una cesta dove sei? dentro la casa a nord si si sto scappando da tutte le parti possibili ma non c'è nessuno dietro cesta lo so però sai come se mi raggiungi non c'ho armi e che potrei trovare ma chiaramente per te ah eh sto laggando eh eh Nesp aiutami 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 che cazzo sei ad esempio no no stai tranquillo me la cavo non c'è nessuno dietro vabbè se trovo un'arma magari che ho aperto oh t2 non so che fosse t2 tra l'altro in un cesso però vabbè sto sotto di Ted benissimo bravo e ho una spada in pietra per te pure ma aspetta che oddio quante cazzo di cose hai fatto tipo una cosa stranissima non fa niente io oh 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 ho un'arma 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 che poi ha nasce le linee ma è un'arma ma se tipo io abbatto le porte no perché non posso cosa perché l'ho fatto eh sai come è un po' difficile abbattere le porte ho anche un diamante raga se lo voce se qualcuno ce l'ha è un lingotto inferno anch'io è un lingotto inferno vabbè lo spawn che ci facciamo la spada ho della roba per te tipo aspetta eh io sono sotto di Ted tipo cioè non so dove tu sia però sono nella casa io si si ho capito io sto arrivando mi sto andando lo spawn no sono qua vedi tanto non so perché oggi raggio così tanto dove sei tu? ah sei fuori fuori dalla casa ehi no ora giuro che se mi crasha Minecraft mi cazzo non so perché mi dovrebbe crashare ma adrenaline anche tanto mi fa crashare ma anche ti ricordo l'altra volta ok tipo in certo punto eravamo in 3 io io non ti conosco non mi ricordo niente contro due nabi eh è veloce e ora ti killo cioè tipo con ma la non ti conosco ben allora non sentimo bravo è quello che stavo pensando anch'io non ti conosco va bene non sentimo ok lasciamo il cibo buono eh? buon arrivo cosa? nessuno ha detto quello tieni 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 buono hai detto oddio c'è un tizuna andiamo let's go no aspetta è della spada devo dare ce l'hai? eh ma ti metto tu io ce l'ho in pietra è natale eh anch'io ce l'ho in pietra qualcuno ha un lingotto inferno no giustamente eh no no si ce l'ho io tieni 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 è uno stick magari anche uno stick bravissimo ando ora prendo vale guarda io sono sempre quello degli sti si ma sei scema l'hai fatta apposta era la il tizio lo so ah ecco si perchè cosa c'è un c'è una che cazzo c'è una mira di un macaco che proprio schifoso ora c'è uno allo spawn no cazzo vale vengo da voi però affrontarlo se no io c'è no no cazzo perfisco non giocare no aspera eh eh facciamo due video con quello perchè adesso non ho dato dei meandri proprio schifosi non lo so dove c'è il tizio eh appunto dei meandri schifosi intanto siamo questi c'è guarda come scappa intanto siamo in cinque l'avrei potuto arare quando volevo eh perchè è anche messo male ma no no non lo prendo con le frecce non ho tutti fuori non ho tutti i cuori occhio ed oh oh ma c'è un pochino sbaglio ma proprio tanto ho un cuore e mi mangia la gaffol Udi come l'hai mangiata proprio al volo si al volo tipo che se ti prendeva si si mezzo secondo me vieni qua ciucciamelo ok andiamo eh scappa al 3 3 2 1 via eh no mi sa che citta proprio questo non so cosa c'è eh è un tizio che sto per uccidere no no dai citta 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 credo non so però eh vabbè ma manco lui tanto che già si mangia la gaffol ah Ale Ale mi devi aiutare no ed citta questo mi devi aiutare assolutamente fuori credo che che usi come si chiama quella hack lì che ti fa fare oddio non mi viene quella lì che ti fa colpire gli altri cioè non non la kill laura quella lì che ti fa fare eh forcefield eh io sono lo spawn no forcefield l'altra quella lì che citta sempre xdni46 non so eh non so quale intendi che non è un hack vera e propria è più una roba del tipo che ti fa incominciare a spadare quando hai la gente vicino trigger bot si bravo trigger bot allo spawn vieni si ci sono eh beh è un senso guarda guarda vedi 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 c'è proprio mi sembra anche oddio ma sta arrivando l'altro si è ok ora è un doviduale però cazzo io ho pochi cori e non ho neanche cibo all'estate ah ok lo stai seguendo lo stai seguendo bravo eh mi butti del cibo dietro per favore ah comunque una cosa lo faccio subito sto comunicazione madonna dimmelo madonna dimmelo si è pensavo che fosse ok stai seguendo uno no è chiaramente chi è lui madonna victor dominata di merda ma proprio vaffanculo eh anche questo città beh potrebbe anche essere che non siamo più allenati noi però cazzo cioè che c'è ah vabbè hai forces tale ah ok si compressi ciao nespo sei morto tu o sei morto voi perfetto direi che sei morto tuttavia io devo, devo tipo fare la gara a andarmine prima possibile perchè e vabbè se sto qua continua a spammare la canna da pesca cioè non riesco neanche di me a dargli oddio, sto dalgando io o sto dalgando lui? si è fermato per favore ok ok ora posso recuperare il cibo almeno grazie che ti sei fermato bro ma sono in T2, non capisco no, c'è proprio no, schifoso ce la fai darmi tipo 5 frecce giusto per sicurezza so che è un po' brutto oddio, posso andare allo spot grazie che cosa? che cosa? ok sono mortissimo mi sembra che ce l'è presente dieci mesi fa eh forse non ce l'è presente però sembra il quad led di dieci mesi fa in che senso cioè questo qua c'ha c'ha uno virgola ma si ho scritto victor2003 è convinto che questo qua si chiamasse victor2003 in realtà no e ho detto c'è uno su tre e in realtà c'era un tizio che si chiama victor2003 che aveva uno su tre ma non c'entrava niente senti io questo qua non lo affronto ognuno c'ho una caga tremenda a parte che sono tipo un po' di tempo che non gioco ma ora vi spiego anche perché ma perchè stai registrando? si oh ma che cazzo ma questo qua non riesco a prendere con le frecce perché sono speggiorato cioè speggiorato oppure oh ma proprio non riesco mai guardalo mi sfugge sempre io non ci vado in ognuno ma proprio fottiti no ma vai via da me ok questa qua è tipo la gara a non fare un cazzo ma che teamers ma proprio ma sei rincoglionito ma se non oh ma non riesco a prenderlo con le frecce cioè proprio madonna bonina no no vattene via vattene proprio via e anche tu via ed comincia a tornare dentro alla vagina ma vedi che non riesco proprio a prenderlo cioè riesco male ma venga vedi vede' kia earliest ea kakia kak presidents mia sindă pwij fredd make us espremila l cure no no mi sento una merda ma mi piace esserlo e quindi comunque ok poi mi sento una merda ma mi piace esserlo perché lo so comunque aspetta perché devo fare una comunicazione non la tua auto perché no Ma vi spiego perché Praticamente non stavo facendo video Semplicemente perché non avevo voglia Proprio non avevo voglia Poi perché giocavo a FIFA tutto il giorno Ma non perché Sì perché tu cosa fai Tutto il giorno giochi a Minecraft Oggi ad esempio sto E quindi non sei andato a scuola Anche ora non è che stai bene Esatto ho detto di sì Quindi non sei andato a scuola Vabbè sei tardo Non ho capito un cazzo Ho detto di sì Ma sì no O sì sei andato Non sono andato Bastardo Vabbè ma perché sto facendo questi discorsi Quindi vi ricordo che se il video non vi è piaciuto Andata a mettere non mi piace il video di Ale